Ok, allora riprendiamo il nostro discorso cercando di traslare ciò che abbiamo imparato in questo esempio di poche righe, che contiene essenzialmente la versione minima, minima, minima delle istituzioni che servono per collegarsi a un database e fare una query e proviamo a vederlo in un contesto più ampio di un programma che potrebbe essere quello del libretto dei voti della volta scorsa, quindi poniamoci l'obiettivo di prendere il progetto libretto e modificarlo in modo che i dati non siano più gestiti direttamente dentro una lista del modello, ma vengano ospitati all'interno di un database. Allora, due passaggi ci serviranno per poterlo fare, il primo passaggio è che bisogna creare un database pronto a contenere quei dati e quindi questo lavoriamo direttamente in SQL. Il secondo passaggio che faremo è capire dal punto di vista del codice come e dove è meglio organizzare i vari metodi, in particolare dove è meglio mettere i vari comandi. Vi anticipo subito, probabilmente non mi piacerà avere questo metodo ad esame e qui dentro avere uno sbrodolamento di questo genere con tutte le SQL exception, la string SQL, la connessione, la URL ripetuta in tutti i singoli metodi. Dovremo un minimo organizzare il codice in modo da mantenere il modello ancora leggibile, semplice, che faccia ciò che deve fare, cioè gestire i dati e separare le operazioni di basso livello sul database in classi separate, quindi impareremo anche qua ancora una volta a separare le due competenze. La parte più facile ovviamente è creare il database, quindi il primo passo. Quindi creiamoci un nuovo database, non è qua ma è tasto destro qua, crea nuovo database e creiamo un nuovo database che si chiama, quindi sono collegato, sono ancora collegato allo stesso server, all'interno del server, crea un nuovo database che chiamo libretto. ID, ma come tutti i programmi di questo genere, ci permette di gestire l'operazione in modo grafico, ma per ogni operazione ci fa sempre vedere qual è il comando SQL che sta eseguendo. Quindi possiamo ripassare, un po' possiamo controllare, un po' possiamo scopiazzare ciò che fa lui. Lo possiamo usare anche come strumento grafico per comporre le query. Ok, creiamo database e compare da qualche parte un database che si chiama libretto. Se non dovesse comparire subito, c'è sempre questo refresh che aggiorna l'elenco, a volte lo create e poi non lo fa vedere subito, dipende dalla versione che avete. Ok, database libretto, vediamo un po' meglio la parte di a destra, a destra ti fa vedere prima di tutto l'host, poi il database è aperto in quel momento e nella finestra del database mi farà l'elenco delle tabelle, poi quando sono in una tabella mi farà vedere l'elenco dei campi della tabella, abbiamo questi tre livelli. Adesso non ho nessuna tabella, posso crearne una, qui dal database crea nuova tabella e qui definisco il nome della tabella. Nome della tabella, esame, do alla tabella lo stesso nome che avevano gli oggetti delle mie classi, gli oggetti del mio programma. Poi la settimana prossima ci daremo delle regole per cercare di rendere la transizione tra Java e SQL meno indolore possibile, o più indolore possibile, meno indolore possibile, cercando di fare in modo che le tabelle del database e gli oggetti Java si corrispondano in modo più facile, però intuitivamente non ha senso chiamarlo in un modo diverso, poi ogni volta dobbiamo pensare qual è la corrispondenza. E dentro queste tabelle esame aggiungiamo varie colonne, quindi abbiamo questo bottoncino add che mi permette di dire quali sono le colonne da aggiungere a questa tabella. Quindi qui siamo nella fase di creazione di una tabella nuova. Dunque ci sarà una colonna che è il codice, che è una stringa di lunghezza massima di 50 caratteri ce n'è da vendere, potrebbero essere anche solo 10. Poi abbiamo una seconda che è il titolo, se non sbaglio si chiamava così, che è una stringa però magari più lunga, mettiamo lunghezza massima 200, poi ne abbiamo un'altra che era il docente, che per ora è una stringa, poi avendo un database mi viene subito l'appetito di dire no ma il docente facciamo una tabella di docenti a parte, questo sicuramente lo faremo, per il momento partiamo con una tabella sola. Quindi codice di titolo docente, poi poiché non mi fido della mia memoria, vado a vedere cosa c'era nella classe esame, codice di titolo docente, va bene, poi c'era superato, voto e data superamento. E quindi aggiungiamo anche queste altre tre colonne, superato, che sarà un booleano tipo booleano, ma in SQL non esiste il tipo booleano, quindi dobbiamo definirlo come tipo intero, 0,1, voto, che è un intero, e data superamento, che è una data. quindi temporal, ora, date, il tipo SQL. Poi di questi campi dobbiamo definire quali sono obbligatori, quali no e soprattutto qual è la chiave primaria, allora la chiave primaria direi che è il codice in questo caso, per definire che un campo è una chiave primaria, tasto destro sulla riga, crea indice primario, e mi mette la chiavina a fianco, e quindi automaticamente non è più null. Poi degli altri campi quali possono essere null? Allora il titolo no, il docente no, il voto e la data potrebbero essere null, superato no, non può essere null, e il valore di default di superato è 0. Quindi quando viene creato un oggetto senza specificare specificamente superato o non superato, questo campo superato viene inizializzato a 0, che sarebbe il falso. Quindi a quel punto il voto e la data superamento non mi interessano. E io compilo così, quindi giocando con questa interfaccia per definire le caratteristiche della mia tabella, posso vedere qua, create code, il codice che viene eseguito per crearla effettivamente nel database. Cioè finché sono qua la tabella non è ancora stata creata, sto solo giocando con l'interfaccia. Poi quando faccio save, effettivamente vedete che giù la finestra di log sotto stampa roba, vuol dire che ogni istruzione che MySQL manda a MariaDB viene scritta qua sotto. Quindi vuol dire che ha fatto qualcosa e alla fine è stata creata questa tabella esame, che conterrà 0 dati ovviamente per il momento, con le caratteristiche che ho dato. Quindi quando definisco la tabella, ovviamente questo caso è una tabella semplice, se no dovrei fare un minimo di progettazione della base dati, capire quali sono le tabelle, quali sono le chiavi esterne, quali sono gli indici, eccetera, eccetera. Nel momento è molto semplice. E quindi abbiamo la base su cui il programma può lavorare. Abbiamo smarcato il primo punto, abbiamo un database di tipo libretto con una tabella di tipo esame che contiene le stesse colonne corrispondenti alla classe esame, con un po' di adattamenti, perché ovviamente in Java c'è un boolean e qui non c'è, allora ho messo un int. In Java si usa la scrittura camel case con le maiuscole in mezzo, in SQL è un linguaggio che non è case sensitive, quindi maiuscole e minuscole non fanno differenza, quindi per separare parole e si usa l'underscore, quindi cerchiamo di adeguarci alle convenzioni dello specifico linguaggio. Fatto questo possiamo tornare al nostro programma, sappiamo che il database è pronto. Quindi il nostro programma libretto lo facciamo evolvere. Allora per non mescolarci io proprio a livello di git faccio un cosiddetto branch, switch to new branch, un branch come dice il nome è un ramo separato dell'evoluzione del programma, separato dal ramo master, normalmente si lavora così, io ho un master, faccio una prova, faccio una sperimentazione, faccio un nuovo sviluppo, lo faccio in un branch separato. Se tutto va bene, alla fine questo branch lo posso poi integrare a sua volta nel master e quindi far evolvere il master. Se invece non funziona, non cambio idea, non ci arrivo là, allora quel branch viene semplicemente un ramo abbandonato ma non va a sporcare la versione principale, ufficiale che sta nel master. Per fare poi l'operazione di fusione faremo poi un merge in cui vado a reincorporare dentro il master le variazioni che sono state fatte dentro un branch. Però noi visto che useremo questo testo del libretto per fare varie prove, come pretesto, anche domani sulle mappe, come pretesto per fare varie sperimentazioni, lavoriamo in branch separati, così ogni volta avete la possibilità di switchare tra una versione e l'altra e l'altra senza incasinarci troppo. Il comando è sempre switch, per cui quando farete il pull, se volete fare un fork o un pull di questo progetto, vi trovate sempre nel master, però potete anche localmente fare uno switch a un altro branch e semplicemente lui sostituisce i file di un branch con i file relativi a un altro branch. I vari branch sono sempre all'interno dello stesso repositor, non è che posso fare il pull di un branch solo, faccio il pull di tutto il repository, poi internamente nella working copy decido su quale branch posizionarmi, ma il repository li contiene sempre tutti. Quindi faccio un nuovo branch che chiamo with database e questo configure stream for push and pull dice che questo branch lo voglio sincronizzare col remoto e non è solamente un branch locale, si potrebbe anche fare così, lavoro un branch solamente nel repository locale, quando faccio push non lo voglio mandare, ma è abbastanza raro. E poi l'ultimo, check out new branch, vuol dire che da questo momento lavoro sul nuovo branch. Me ne accorgo perché a fianco del nuovo progetto non c'è più scritto libretto master, ma libretto with database. Quindi tutto ciò che faccio adesso sarà nel branch separato. va bene, solo per darmi un contesto prima di fare le modifiche. Adesso cosa devo fare? Voglio sostituire, ripensare il modello facendo in modo che i dati non siano più in questa lista, ma siano in un database che mi apre enormi possibilità. Fin lì è facile, bisogna capire, questo vuol dire che i dati non saranno più qua, quindi questa lista in qualche modo la possiamo cancellare e dobbiamo ripensare ai metodi del model facendo in modo che anziché accedere alla lista e quindi ai metodi della lista, accedano al database. possibilmente non tocco altro, nel senso che cambio l'implementazione dei metodi del modello. Il controller non lo tocco, la vista non la tocco, non dovrei aver bisogno di toccare nulla se ho fatto le cose per bene. Però non mi sembra un'idea furba quella di mettere qua dentro direttamente, come dicevo prima dell'intervallo, quella di mettere qua dentro direttamente le query. Perché magari un domani cambio leggermente la struttura del database, aggiungo delle tabelle, preferirei che il modello facesse il lavoro del modello, cioè gestire i dati, l'integrità dei dati e tenere separato tutto ciò che concerna l'accesso al database che è più, diciamo, di basso livello, c'è la sintesi SQL di mezzo, ci sono le eccezioni SQL di mezzo che valgono solamente nel caso in cui ci sia il database, non valgono in generale. Allora per darmi una regola su come e dove mettere le cose, anche qua vengono in aiuto i pattern, che ci danno un consiglio su come organizzare le classi. In particolare il pattern che si applica a questo nostro problema specifico è il pattern cosiddetto DAO. DAO sta per Data Access Object, dove praticamente uno degli scopi è quello di nascondere tutta la complicazione dell'accesso al database, che comunque per fare una query devo fare sei passaggi diversi, devo farli sempre, non devo dimenticarli, rispetto all'organizzazione del codice di alto livello. Quindi l'idea è semplice, metto delle classi separate per accedere dal database. E queste classi cerco di realizzarle in modo il più possibile indipendente dall'applicazione. Cosa vuol dire? Che il modello sa che cosa devo fare, il modello sa che questa è la gestione di un libretto, ha certe regole, ha certe operazioni. Mentre invece in questa classe di più di basso livello, più di database, di accesso al database, devo offrire dei metodi che siano metodi genericamente utili, generalmente utili per chiunque debba interagire con quel database, indipendentemente dal fatto che quell'applicazione gestisca il libretto dal punto di vista che non so dello studente, oppure faccia le medie, le statistiche dal punto di vista della segreteria studenti. Mi crea uno strato vicino al database che permetta di fare le operazioni che ha senso fare su quel database. Quindi in qualche modo questo livello che stiamo creando, che ci stiamo inventando, non dovrebbe sapere che cosa fa l'applicazione. dovrebbe avere dei metodi generali che poi il modello usa per fare i suoi scopi. In questo modo questo livello di accesso al database può andare a spasso insieme al database anche in applicazioni diverse. Invece il modello, gioco a forza, deve sapere cosa fa l'applicazione. Quindi in pratica cosa dice questo pattern DAO che si chiama Data Access Object? Il DAO dice, le tue classi dividele in tre grossi blocchi. La classe client, le classi client, c'è il codice applicativo che ha bisogno di accedere al database. Nel nostro caso sarà il model. Il modello è la classe che ha bisogno di accedere al database, solo lui. Questo modello non deve conoscere nulla sui dettagli del database. Quindi tutto ciò che di cui abbiamo parlato nell'ora prima, java.sql, eccetera, non deve mai finire dentro il modello. Import java.sql in un model è sbagliato, così come lo era import java fx.qualcosa. Poi abbiamo le classi DAO vere e proprie, che sono le classi di accesso al database. Dentro queste classi c'è il codice di gdbc. Quindi connection statement, le cosette che abbiamo visto prima. E queste non sanno, offrono dei metodi per creare, cancellare, ricercare, senza sapere perché. È una classe che non sa cosa sta facendo l'applicazione. Sa eseguire operazioni di base sui dati contenuti nel database. E poi ci sono delle classi più di basso livello, che chiamano, a volte le chiamano transfer object o data transfer object, che corrisponderebbe alla nostra classe esame. C'è dei contenitori di dati, che sono quelli che vengono passati avanti e indietro tra il modello e il DAO. Quindi la conoscenza condivisa tra il livello model e il livello DAO sono queste classi che contengono i dati. Quindi tutte le comunicazioni avvengono passandosi queste classi, questa manciata di classi, questi bin, in questi Java object semplici, che poi sono il livello di rappresentazione interno dei dati. Questi oggetti semplici, già lo sapevamo, non sanno nulla del database, non sanno nulla di model, non sanno nulla di application, sono semplicemente scatoline che contengono i dati. Poi ovviamente c'è tutto il mondo JDBC, il driver manager e roba varia che ovviamente è dentro il DAO. Quindi a livello di diagramma delle classi abbiamo il nostro model che chiama una serie di metodi definiti da un oggetto DAO. Questo oggetto DAO è capace a maneggiare del set, è capace a leggere JDBC, ma comunica col client solamente attraverso questi transfer object, attraverso i dati. Quindi quali sono i metodi che questo oggetto DAO deve offrire? L'oggetto DAO può importare, può usare JDBC e offre dei metodi, un'interfaccia di più alto livello all'accesso al database. E quindi l'interfaccia di altro livello permetterà al client, al model, di creare nuovi oggetti, di leggere un oggetto dal database, di aggiornarlo, di ricercarlo e così via. E quindi ha una serie di metodi che sono più o meno sempre gli stessi. Quindi quando presentiamo questa classe che regole ci diamo? La regola principale forse è che il DAO non ha stato, ha una serie di metodi di servizio, non ha quasi mai delle proprietà interne, delle variabili interne, perché lo stato dell'applicazione ce l'ha al model, il DAO non, lo stato dell'applicazione dipende dall'applicazione, il DAO non deve conoscere gli scopi dell'applicazione, deve avere semplicemente dei metodi di servizio. Ci fa in modo, nel caso in cui abbiamo un database complicato, possiamo avere un'unica classe DAO con i metodi di servizio per tutto, oppure tante classi, che ne so, una DAO per esame, una DAO per il docente, tante classi, ciascuna delle quali si occuperà di una sola tabella o di un piccolo gruppo di tabelle correlate tra di loro, questa poi è una scelta nostra. E queste classi DAO devono offrire dei metodi che permettono di fare le operazioni basilari, quindi crea, leggi, aggiorna, ma soprattutto creare e leggere, o soprattutto leggere i dati dal database. E più oltre alle operazioni che possono lavorare sul singolo oggetto, possono anche dare i miei metodi di ricerca. Dammi tutti quelli che non dammi un solo uno. Quindi avremo dei metodi di questo genere, ad esempio, no? Immaginiamo una classe user DAO che gestisce una tabella che contiene degli utenti. Avremo un metodo, ad esempio, find, chiamiamolo così, che se gli do l'identificativo, la matricola, mi restituisce l'oggetto user corrispondente. Quindi cosa farà sta roba? Farà la quiz sul database, select asterisco from user where id uguale quel numerino lì. Se faccio una ricerca per chiave primaria, il risultato è al massimo una riga, o zero o una riga. Se c'è quella riga, mi restituisce, crea un oggetto di tipo user e me lo restituisce, che contiene tutti i campi. Se non c'è quella riga, ritorna null, dice non c'è l'oggetto. Questa è la forma principale. Oppure posso avere una variante, gli passo un oggetto già user, già fatto, e lui usa il campo id di quell'oggetto per fare la ricerca e va a riempire gli altri campi dello stesso oggetto che gli passo. Questo dipende se voglio che l'oggetto venga creato dal metodo find, quindi dal DAO, oppure lo voglio creare io, e quindi gli passo un oggetto dicendo, senti, riempimi gli altri campi. Poi ovviamente c'è l'Iberdo in cui gli passo l'id e l'oggetto è da riempire. Perché magari il DAO non ha l'intelligenza sufficiente per sapere che tipo di oggetto creare e perché magari user l'interfaccia non è una classe. Se andiamo sul complicato, no? Ma se no, sul semplice ci basta la prima versione. Oppure posso fare delle ricerche che per altri criteri, per mail, per nome, per password, o addirittura delle ricerche che restituiscono non un solo utente, ma un elenco di utenti. Dammeli tutti. Find all. Dammi tutti quelli che hanno un certo username. Cosa di questo genere. Cioè passo dei parametri criteri di ricerca e ritorna uno o più elementi, uno o più oggetti, quindi un oggetto o una lista di oggetti che corrispondono a quei criteri di ricerca. Capite? Questi sono metodi che possiamo implementare sempre, senza sapere a cosa servono. Di sicuro serviranno sempre. Indipendente. E poi il model quando ha bisogno di qualche cosa chiamerà DAO.find e gli dà l'oggetto. Il modello non ha più bisogno di sapere nulla a livello di connessioni di database. Oppure analogamente per creare nuovi utenti. Il DAO.create ti passo la classe user e tu mi fai la insert delle cose corrispondenti. Quindi di fatto traduci dei concetti di alto livello che sono find, search, create o update in query e SQL. E per la maggior parte delle operazioni ci basta questo. Poi magari ci sono delle query un pochino più complicate che richiedono dei metodi ad hoc speciali, però li possiamo aggiungere in qualunque momento. Allora, come applichiamo queste cose in pratica nel nostro progetto? Il nostro obiettivo è quindi creare una classe DAO che ci permette di gestire la tabella esame. Dove la mettiamo? beh, io la metterei per, diciamo così, evidenziare ancora di più la divisione in un package separato che potrei chiamare libretto .db, dentro cui vado a mettere una nuova classe che posso chiamare esame DAO. Quindi questa classe sarà l'unica classe che farà tutte le query. E che cosa si può fare su questo database? Beh, posso avere un metodo che inserisca un nuovo esame. Posso fare un metodo che ricerchi un esame se esiste già e così via. Quindi facciamone uno semplice. Metodo che ricerca un esame, la più semplice di tutte. Ti do il codice e mi dai l'esame. Quindi sarà un public, esame, find, string, codice. Questo è un'interfaccia, un metodo che il modello può chiamare. È un metodo che parla string e parla esame, non parla SQL. Ovviamente esame va importato dal modello. E questa cosa fa? Beh, dovrà fare il lavoro del database. database. Quindi aprire una connessione, preparare la query, eccetera, eccetera. Allora, per farlo magari la query sarà molto semplice. Proviamo a metterci un dato, un esame di esempio, perché potrà farla qui, altrimenti non riusciamo a farci nulla. Come l'ho fatto? Ho premuto insert quando ero in questa, il tasto insert della tastiera, se non puoi fare anche insert row e aggiungi nuovi dati. E quindi io posso provare, scrivere una query, selezione, select, codice, titolo, docente, superato, voto, data superamento, from, esame, where, codice, uguale 0,3, f, y, z. E questo mi darà, la risolta di questa query mi darà questa riga. Se invece il codice è sbagliato, non mi dà niente, mi dà zero riga. Quindi questa è la query che voglio incapsulare dietro il concetto, dammi un esame fornendoti il codice. Dove il codice, come dicevamo, è un dato specificato dall'utente, un parametro di questa ricerca. Quindi questa è la query che vogliamo fare. portiamola in java, copia. String SQL uguale. Più. Io preferisco sempre non mettere select asterisco, che andrebbe bene per pigrizia, ma se poi il database evolve e aggiungo una colonna, il codice Java si rompe, perché mi aggiungi una colonna che prima non c'era, quindi ci vuole un periodo più di tempo, elenchiamo tutte le colonne, così abbiamo riferimento esplicito di che cosa vogliamo prendere. Questa è la query che vogliamo fare, o perlomeno una variante della query che vogliamo fare. Sappiamo che questo 0.3fx.z non è sempre questo il codice che vorremmo interrogare, ma di solito sarà questo codice, che viene passato come parametro. Allora, come facciamo? Andiamo a sostituire, dicevo con quella danza di virgolette di cui abbiamo parlato prima, al posto del valore letterale del codice interpoliamo, infiliamo dentro un parametro proveniente dall'utente. vedete, vedete che così non mi piace, non facciamo così, adesso impariamo come fare a evitarlo. Così facendo costruiremmo una query che trova se esiste un esame che ha quello specifico codice, passato come parametro string. Noi già sappiamo che quel parametro arriverà da un campo di testo in cui l'utente ha scritto il codice, nella nostra interfaccia grafica. E a questo punto possiamo aprire una connessione e eseguire questa query come abbiamo fatto prima. prima di farlo però cerchiamo di trovare un modo di non fare questo pasticcio. perché non voglio fare questo pasticcio? Per ragioni puramente estetiche? No. Prima di tutto per ragioni di sicurezza. Cosa succede con query di questo genere? Questo è come lo abbiamo fatto noi, no? Seleziona qualche cosa da una tabella, where, username, codice, uguale a una certa cosa. E sta roba arriva da un get text che ha scritto l'utente. Allora qui abbiamo dei problemi di sicurezza enormi, perché ricordatevi che poi la nostra applicazione Java manda questa stringa a un database, un database che normalmente non è raggiungibile dall'utente, e lo manda autenticandosi con una credenziali, quel root o quell'utente che abbiamo, che sono proprie dell'applicazione, sono sue, private. Allora cosa capita? Che noi stiamo aprendo la strada agli utenti per fare delle cose mostruose. Cioè immaginate che l'utente dentro la casellina di testo in cui deve scrivere il codice del corso, anziché il codice del corso scriva questa cosa qua. Questa qui in blu, compreso l'apice. Quella è una casa di testo, scrive ciò che vuole lui. Se per caso scrivesse questa cosa qua, provate a applicare questa, a costruire questa stringa. Select asterisco from users, where username uguale, aperto apice, chiuso apice, punto e virgola, delete asterisco from users, punto e virgola, commento, chiuso apice, che va a finire dentro il commento. Quindi quando io faccio questa concatenazione qui, prendendo questo valore strano che l'utente ha inserito, in realtà la query che lancio al database è questa, qua in rosso, che fa prima una select inutile che non troverà niente e subito dopo mi cancella tutti i dati. Questo meccanismo si chiama SQL injection, cioè ho un buco attraverso cui un utente può iniettare il codice SQL arbitrario che decide lui, perché il codice che inietta in questo caso è un delete, ma potrebbe fare cose ben peggiori, tipo rubarmi i dati, non solo cancellarmeli. L'utente può eseguire il codice SQL che vuole iniettandolo all'interno di un campo dati, con un po' di sintassi creativa, ma si sa che i malintenzionati sono sempre molto creativi. Quindi come facciamo? Dobbiamo evitare assolutamente di fare operazioni di questo genere, di concatenare dentro i nostri comandi, inserire all'interno delle nostre stringhe di comando, delle nostre stringhe SQL, dei dati che provengono dall'utente. O sono sicuro che quei dati siano sani, non contengano trucchi o trappole di questo genere, ma come faccio? Vado a controllare tutti i caratteri strani. E se dentro il nome di uno c'è l'apostrofo perché c'è il nome accentato, cosa faccio? Non è che posso ucciderlo perché ha un carattere che non deve avere nel nome. E poi non potrò mai prevenire tutti i possibili trucchi, perché questo l'ho fatto col chiuso apice, ma si può fare con caratteri di fine linea, si può fare, ci sono libri interi su come farsi quell'injection. Allora, dobbiamo risolvere il problema alla radice, dobbiamo metterci nelle condizioni di non fare mai un'operazione di questo genere. Quindi i dati dell'utente non si vanno mai a inserire, a mescolare alle stringhe. Poi ci sono alcuni esempi carini, tipo questo tizio qua che sperava di applicare questa tecnica, gli autovelox, dicendo se mi fotografano la targa io gli foto i dati e li cancello. Però non è detto che funzioni, così come quest'altra vignetta della mamma che ha chiamato il figlio, chiuse virgolette, punto di virgola, drop table students, quindi quando l'hanno iscritto a scuola gli ha cancellato il database della scuola. Questo folklore, però è un problema reale, il problema che avete qua, lo stesso problema c'è la rete in PHP quando farete applicazioni web, con la differenza che PHP fa schifo e quindi non c'è una soluzione fatta bene per questo problema. In Java per fortuna è meglio. Poi c'è anche un altro problema, ma rispetto a questo è secondario quello di prestazioni, nel senso che se io faccio 100 volte la stessa query, un database furbo riconosce che è la stessa query e la parte di parsing e di ottimizzazione della query la fa una volta sola. Però questo richiede che la query sia identica, mentre invece se cambia ogni volta il valore, che ci metto tra virgolette, non sarà mai identica, saranno sempre query diverse, lui non può sapere che sono identiche a parte quel valore e quindi lavora peggio, fa più lavoro del necessario, quindi sarebbe meglio riconoscere che la query è sempre la stessa, ciò che cambia il valore. Per farla breve, in JDBC c'è un modo molto semplice che è quello di definire non una query, ma un modello di query, un template e dire questo è il modello di query e qui, qui, qui in questi 2-3 punti ci vanno a finire i parametri e lasciare che sia il driver JDBC ad infilare i valori attuali dei parametri nei punti giusti, nel modo giusto. Così shiftiamo tutta la responsabilità al driver JDBC che fa quello di mestiere, non siamo noi che dobbiamo concatenare stringhe facendo attenzione che, noi concateniamo niente, dico la stringa, il mio modello di query è questa, ha questi 3 parametri e i valori dei parametri sono questo, questo e quest'altro, lavorando con oggetti Java senza mai concatenare stringhe. Addirittura il driver JDBC è furbo e i dati, neanche lui non fa la concatenazione di stringhe, manda al database la query e poi manda separatamente i dati. Così in realtà il driver JDBC a sua volta scarica la responsabilità è sul database che sa gestire le cose. Come si fa? Semplicissimo, si usa semplicemente un oggetto statement, un oggetto prepare statement. Questo nome prepare statement separa proprio il fatto che prima lo statement viene preparato con un certo template, con un certo modello e poi viene personalizzato. Prepare statement è semplicemente uno statement in cui ci sono in alcuni punti dei punti interrogativi, ci sono dei placeholder che dicono qua ci vuole un parametro, senza apici, direttamente ai punti interrogativi. E poi prima di eseguire lo statement, imposto i valori attuali di questi parametri, quindi dirò setFloat1 vuol dire nel primo parametro mettici questo valore float, nel secondo parametro mettici questo valore int. Quindi ho la definizione del template pulita e il valore dei parametri infilato all'ultimo momento dicendo qual è la variabile, l'oggetto che contiene il valore da sostituire ad ogni singolo parametro dell'acquiri. Allora questa soluzione in realtà non è più complicata dell'altra, ha 100 vantaggi, nessuno svantaggio e quindi usiamo sempre questo. Quindi useremo sempre prepare statement e mai statement. Se no, se volete proprio c'è una query fissa che non ha parametri, allora puoi anche usare statement, in quel caso coincidono i due. Però non sai mai se in futuro non vorrei aggiungere un parametro, quindi tanto vale. Quindi questo cosa vuol dire? Che noi, anziché mettere, fare questo balletto di apici eccetera, mettiamo un bel punto trocattivo. Le apici non le metto io, le aggiungerà a lui se le servono. Io dico semplicemente codice uguale un parametro e a questo punto posso andare avanti, copiando le righe là, per esempio. JDBC URL, questa volta JDBC URL sarà non meteo ma libretto e poi ottengo la connessione, uguale driver manager, punto get connection, JDBC URL. E così via. Connection sarà java.sql.connection, questo si arrabbia perché non c'è la gestione delle eccezioni, le aggiungiamo, va bene. A questo punto semplicemente facciamo la query. Allora statement, scusami non è più statement, è prepare statement. Uguale. Connection punto, non si chiama più create statement, si chiama prepare statement. E all'atto della preparazione dello statement devo già passargli qual è l'SQL da eseguire. Mentre prima create statement era vuoto, non aveva nessun parametro, invece prepare statement vuole sapere qual è l'SQL da preparare. Piccola differenza. Poi una volta che ho lo statement, prima di eseguire lo statement devo riempirlo con i parametri attuali, con i valori attuali dei parametri, quindi devo rimpiazzare questi punti interrogativi con dei valori specifici. Avendo dei metodi set che sono il contrario dei get di prima, del real set. Cioè imposta il codice a una stringa, quindi avrò un set string, se fosse un intero sarebbe un set int, sarebbe un set float, set double, eccetera, eccetera. A seconda del tipo di dato che devo sostituire al singolo parametro. E poi questi metodi set hanno due parametri, il primo la posizione, l'uno corrisponde al primo punto interrogativo che compare nella stringa, il due corrisponde al secondo punto interrogativo e così via. E poi il valore. Quindi al netto di avere usato prepare statement anziché statement, che è usare una classe all'opposto di un'altra, ciò che abbiamo fatto? Abbiamo sostituito la concatenazione all'interno della stringa brutta, pericolosa e puzzolente con quest'istruzione qua. Quindi non ditemi che è più complicato, è più esplicito e più semplice. Cosa impedisce all'utente in codice di scrivere la stessa schifezza? Nulla lo può impedire all'utente, ma set string non fa la concatenazione. Quindi set string dice, io sto mandando al database due cose, una è la query e la seconda cosa è il dato in un canale separato, che viene usato dal database direttamente come dato binario, non viene più interpretato come string lì dentro. Cioè l'errore prima, il problema prima era che il pezzo di dato veniva interpretato come parte della sintassi SQL, qui invece non è parte della sintassi SQL, è esplicitamente un dato, come tale viene preso, spedito, mai letto, mai analizzato dentro. Quindi dentro poi metteci tutte le porcate che vuoi, al massimo vanno a finire dentro il database, dentro la casellina di dato, ma lì non fanno dato, non c'è mai nessun punto in cui viene interpretato come se fosse sintassi SQL. Quindi abbiamo evitato il percorso pericoloso. Allora abbiamo, a questo punto abbiamo lo statement, definito il template e personalizzato il valore, finalmente lo possiamo eseguire. Execute query, questa volta l'execute query non ha più il parametro SQL perché l'ho già messo nel prepare, una piccola differenza rispetto al statement. Quando creo uno statement qui non c'è nulla e dentro execute query invece c'è il comando SQL. Invece nel prepare statement il comando l'ho messo qua e quindi in execute non c'è bisogno di mettere nulla perché sa già tutto. Result set. E a questo punto da questo result set possono capitare due cose. Ho fatto una ricerca per codice. Il codice è la chiave primaria di questa tabella. Quindi quanti sono i risultati che mi aspetto? Zero o uno. Se cerco per chiave primaria o lo trovo e se lo trovo è unico per definizione di chiave primaria oppure non lo trovo. Quindi questa tabella di risultati avrà zero righe oppure una riga. Quindi il ciclo while mi sembra un po' eccessivo. Fare un ciclo su un elemento che al massimo avrà una riga. Quindi in modo più semplice è quello di usare semplicemente un if. Cosa fa questa if? Chiama result.next dicendo posizionami sulla prima riga e poi si chiede ma la prima riga c'era? Perché se c'era quel result.next che si usce true allora io entro dentro l'if. Se non c'era vuol dire che il result set era vuoto. Allora se non c'era in questo caso posso ritornare null. se invece c'è vado a estrarre i dati e costruire l'oggetto. Quindi posso a questo punto avere un nuovo oggetto esame. E nel costruttore di esame che cosa c'è? Nel costruttore di esame ha tre stringhe che sono il primo parametro è il codice. Quindi ricordiamoci questa execute query ha fatto la query in database e siamo a questo punto qui. Adesso devo costruire un oggetto tipo esame da restituire al modello. Quindi il primo parametro del costruttore di esame è il codice. Come faccio a tenere il codice? Lo chiedo al result set get string della colonna che si chiama codice. Il secondo sarà il titolo result set punto get string della colonna che si chiama titolo. E poi il result set punto get string della colonna che si chiama docente. E posso restituire questo esame al chiamante. qui non stiamo ancora estraendo i dati vuoto e data di superamento anche perché il nostro programma non li mette ancora dentro quindi questa classe non è ancora completa. Quindi mettiamolo qua per il futuro. Oggi non ci stiamo, facciamo anche quello. E questo fa il lavoro che deve fare. Perché ho messo questi commenti di ricordarmi? Perché non abbiamo fatto il passo 6, cioè chiudere la connessione. Quando io faccio il return dal mezzo del codice così, non sto chiudendo la connessione. Allora sarebbe sempre bene che qualunque cosa faccia il nostro programma arrivi a chiudere la connessione, anzi bisogna. Per cui un altro modo potrebbe essere quello di non ritornare semplicemente il dato qua, ma definire, che ne so, la sopra, prima del try cache, prima di tutto nell'esame, risalto, per esempio. Semplicemente una variabile uguale null. E a questo punto qui anziché fare return dico semplicemente risalto uguale l'oggetto che ho creato, oppure un resalto uguale null, che è inutile, perché era già null. E quindi mi predispongo, mi calcolo la variabile risultato. Poi se tutto va bene, prima di rientrare al chiamante farò un connection.close e solo dopo posso ritornare il risultato. Mi piace vederli vicino, così vicino al return so che ho chiuso la connessione. E anche in caso di eccezione, ah no, qui non ho detto che la connessione ci sia, quindi niente. quindi vabbè, a parte la gestione dell'eccezione su cui non ci stiamo concentrando oggi, ho questo codice che, dato un codice, mi istituisce un esame. Funzionerà? Proviamolo. Mi faccio una classe, test, test, esame DAO, con un metodo main, e proviamo questo metodo, esame DAO, uguale new, esame DAO, esame U1, uguale DAO.find, codice, un codice che esiste, system.out.println1, esame E2, uguale DAO.find, di 99.qqq, che non esiste, perlomeno in questo database, e 2. Quindi se il DAO funziona, mi aspetto che questo programmino di prova mi stampi per la prima volta l'esame, per la seconda volta null. Possibilmente senza sputare nessuna eccezione. ovviamente non è mai così, ma questa è un'eccezione facile. Dice, non suitable driver found, forge, jdbc, mysql, eccetera, eccetera. Cioè, è il driver manager che dice, io non ho trovato il driver jdbc. Certo, non l'ho messo nel progetto. L'avevo messo nel progetto di prova prima, ma non l'ho messo anche nel progetto libretto. Quindi new folder lib, dentro questo folder ci vado a copiare, sono ancora aperto da qualche parte, connector, e poi lo aggiungo al percorso di ricerca. Ok, riprovo. Quindi ricordatevi, quando vi da queste cose, il new suitable driver found è un problema di trovare il driver jdbc. Non è stato collegato al progetto. Ok, qui ha funzionato invece. Allora, questo cosa vuol dire se questo metodo funziona? Vuol dire che abbiamo incapsulato dentro un metodo, un'interfaccia semplice, indipendente dal database, tutta la logica che serve per pescare un esame dal database conoscendo il codice. Questo è ciò che serve al modello. Cioè il metodo trova esame del modello, che nel nostro caso andava a cercare all'interno della lista, eccetera, eccetera, lo possiamo ridefinire completamente usando il database. Quindi in realtà questo metodo trova esami sarà semplicemente il modello dao, userà il dao, userà la classe dao, delegando la classe dao l'operazione di ricerca vera e propria. Quindi dirò che esame è uguale dao.find di codice. In questo caso sono fortunato perché il livello, il tipo di operazione che deve fare il modello è talmente semplice che guarda caro ho già un metodo del dao che coincide, cioè un'operazione proprio atomica è semplice. A volte il modello deve fare più operazioni, controllare i dati, eccetera. Se c'è lo restituisce, se non c'è cosa deve fare questo metodo? Restituire null. ma che è già esattamente ciò che fa il metodo del dao. Quindi non mi basta che fare return e. Quindi il modello ha visibilità sulla classe dao, ne usa i metodi, la classe dao li prende e li esegue a livello di database. Ecco, fatto questo ci manca solo più qualche cosa a livello di dao che permette di aggiungere esame. Ma già adesso, crociate anche un po' voi le dita, se io lanciassi l'applicazione, non faccio inserimento, faccio solo ricerca, se ricercassi un codice che non esiste, mi dice che non esiste. Se ricerco il codice giusto, me lo trova. Cioè il controllo della vista non si sono accorti di nulla. Il modello è cambiato, fa cose diverse, adesso va a chiedere al dao i dati del database anziché andarseli a sgarruppare all'interno della sua lista, ma l'applicazione funziona. Tra l'altro funziona meglio perché io ho inserito un codice in minuscolo e lui me l'ha restituito, me l'ha messo a posto in maiuscolo, perché in SQL l'UR di SQL è case insensitive. Siamo contenti o non siamo contenti? Decidiamolo. Però per default quando fate string.equal è case sensitive, quindi maiuscole e minuscole sono diverse, quando fate UR in SQL è case insensitive, maiuscole e minuscole sono uguali. Fate attenzione a queste piccole differenze. Non ci resta che aggiungere ad esempio l'altro metodo, torno nel dao, poi vanno documentate tutte e vanno aggiunte i commenti, ma l'altro metodo sarà un metodo che aggiunge, che crea un nuovo corso, quindi sarà un metodo del tipo public boolean create di esame e. E cosa fa questo? Fa una query di tipo inserimento, uguale, come si fa la query di tipo inserimento? Vogliamo inserire un corso qualunque, A, B, C, invio, ecco qua. Ho inserito un dato finto per costringere ID a creare una query, che rubo e copio, insert, into, togliamo queste cose, potrebbero anche andare bene così, dove i values anziché essere A, B, C sono ovviamente punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo. Anche qui non considero ancora il voto e la data dell'esame. Quindi ho parato forse, non mi ricordavo la sintassi dell'inser, l'ho fatto fare a ID, ma va bene così. Quindi questa è un'altra query parametrica, dove questa volta i parametri sono tre. E poi, solita trafila, fatemi copiare un po' di codice, JDBC URL è questa. Poi la sposta, perché non mi piace avere la stessa JDBC URL in più posti, la spostiamo in un'altra classe separata che farà solo la getConnection. Non posso mettere troppa carne al fuoco oggi. Poi avrò, ce n'è già, apro la connessione, preparo la statement, va bene, facciamolo per passi. Connection uguale driver manager, punto getConnection, di questa URL, a questo punto mi faccio generare il try catch e ci lavoro dentro. Una volta che ho la connessione ottengo lo statement, prepared statement uguale connection punto prepare statement a cui gli passo l'SQL, che contiene parametri, tre parametri, quindi ho... Il primo è il codice, quindi statement punto set string, primo parametro, il codice. Il codice dove lo prendo? Dall'oggetto esame, e punto getCodice. Cioè sto infilando nella query SQL i vari pezzettini dell'oggetto codice, dell'oggetto esame. Questo codice va a finire qui. Secondo pezzo, st.setString, secondo posto, seconda posizione, va a finire il titolo del corso, che lo ottengo dall'oggetto esame punto getCorso, getTitolo, scusate. E la stessa cosa per il terzo, che casualmente anche lui è una stringa, il parametro in terza posizione è il docente dell'esame. Quindi ho riempito 1, 2, 3, i tre valori effettivi corrispondenti ai tre campi della query, tre parametri della query, e quindi posso eseguire la query. Questa volta la query è tipo insert, quindi devo eseguire executeUpdate, non executeQuery, e restituisce un valore intero, dicevamo, che rappresenta il numero di righe che sono state modificate. Adesso ho tutto, posso chiudere la connessione, non mi serve più il database. Se il result è 1, vuol dire che il numero di righe modificate era 1, cioè quella che ho inserito, va bene, restituisco vero. Altrimenti, no, vuol dire che non l'ho inserito. E se qualcosa va male, se non esce da lì, vuol dire che è andato storto qualche cosa, ritorniamo falso, così. Qui c'è ancora qualche problemino, però dobbiamo vedere come funziona. Ah, questo qua lo dobbiamo riportare anche nel modello. Quindi abbiamo fatto, vedete che il meccanismo è sempre lo stesso, capisco qual è la query che devo fare e poi se è una query di inserimento, devo prendere i dati dai parametri e inserirli nella query e poi eseguire semplicemente la insert. Se è una query di ricerca, come succede spesso, invece è il contrario. La query sarà più semplice, eventualmente avrà qualche piccolo parametrino di ricerca e poi il grosso del lavoro è costruire gli oggetti all'indietro. Al modello devo anche modificare questo punto ad esame. Il metodo ad esame anche qui non lo faccio più lavorare sulla lista, ma lo faccio lavorare sulla classe DAO. In questo caso mi arriva già l'oggetto pronto, devo inserirlo, quindi farò un DAO.create.d e che sia vero o falso ciò che ritorna, lo restituisco al chiamante. Il modello è un po' mortificato in questa versione, perché non fa altro che prendere e passare la carta verso il DAO, ma poi quando è più complicato non sarà così. Quindi se va tutto bene, rieseguendo l'applicazione, dovremmo essere in grado non solamente di inserire, cioè non solamente di ricercare quello che facevamo già prima, ma anche di poter inserire corsi nuovi. 99QQQ, corso di prova inventato, docente a scelta, inserisci, mi dice esame giunto correttamente, non ci credo, vado a vedere. In ID SQL effettivamente è comparso nel database questo esame. Questo qua di prova lo cancelliamo. E quindi a questo punto se cerco 03FYZ me lo dà, se cerco 99QQQ me lo dà, c'è ancora un piccolo problema, che se io cercassi di inserire un nuovo corso con un codice che esiste già, mi dice giustamente che l'esame non è stato aggiunto, ma anche spara un'eccezione, my SQL integrity constraint violation exception, perché ovviamente la query ha generato un errore, quando io cerco di fare una insert di un oggetto che viola uno dei constraint, in questo caso il constraint della chiave primaria deve essere univoca, il database arrabbia. Quindi noi a livello di DAO l'abbiamo gestito solo a metà, nel senso che abbiamo detto, senza pensarci troppo, se qualcosa va male ritorna falso, fuori dalla gestione delle eccezioni. In realtà dovremmo gestire l'eccezione qua dentro dicendo, beh sì, io mi aspetto che ci possa essere un'eccezione a questo punto, perché questa query non è detto che funzioni, quindi o verifico prima che non c'è, oppure mi aspetto che ci sia l'eccezione e la gestisco, in modo da avere il programma che funziona pulito senza scrivere eccezioni sulla console. Nel senso che l'eccezione può essere, la gestisco per bene, anziché lasciarla sporcare la console che poi non capisci mai quante sono gli errori veri, quali sono le eccezioni che invece è normale che ci sia. Quindi questa chiaramente è una fase poi di ripulitura che possiamo fare meglio la prossima volta. Per oggi direi che è sufficiente. Vi faccio push di questo progetto così se volete potete guardarci, sappiate che non è finito perché manca la gestione degli errori, sistemare meglio questa JDBC URL e poi la parte di vuoto è data a superamento che abbiamo rimandato per ragione di tempo. Grazie.